Ciao amici, faccio anche la domenica e ti voglio fare un qualcosa che ti ha lì tutta la famiglia un bel rostino con le patate c'è un po' l'aletta e la fermo insieme l'aletta di vitelle la dà su un po' di grasse mi, e ti rivolgo tutto te la qui, la parbiuta, ma se mangia tu scossa facciamo scaldare l'olio e diamo una rosolata alla nostra aletta adesso ti do i pari osmarino, sal e pever e... si minga i piocci un bel bicicletto di vino bianco che li vuta fa la puccia qua tu ungo e si vede un troppo quasi pronte che metti dentro i patati insagure una brisa di salsa e patati e il nostro rostro è pronto una meraviglia un cassurello di puccia e chi si muove più da tavola? anche anche, ci c'è un domanda